No al modello austriaco, ma sia ad un green pass rafforzato, ovvero al certificato verde solo per i vaccinati, in quelle regioni che a breve potrebbero cambiare colore. Alla luce dell'aumento dei contagi in tutta Europa, alcuni governatori regionali premono affinché le future restrizioni, in caso di passaggi in zona gialla o arancione, non gravino su chi è vaccinato. Una linea rigorosa alla loro, che punterebbe al solo lockdown dei non vaccinati, così da salvaguardare i cittadini che hanno dimostrato fiducia e consapevolezza nei confronti della campagna vaccinale. Ma il governo, per ora, non sembra pensarla allo stesso modo. La situazione grazie ai vaccini è sotto controllo, afferma Siveri, specificando che la possibilità di un coprifuoco per chi non è vaccinato potrebbe essere un'opzione, ma non con i numeri attuali. Tra le prossime misure anti-covid ci sarà quasi certamente l'introduzione all'obbligo della terza dose per il personale sanitario e la riduzione della durata del Green Pass. Rispetto a Natale, molte regioni possono ancora sperare di rimanere in zona bianca, senza restrizioni per feste e cenoni, ma solo raccomandazioni di prudenza, come evitare assembramenti e indossare la mascherina anche nelle abitazioni private.